Io sono Gabri Costa, in questo manicomio dobbiamo battere Ash Malvasio, che è una copia ed è il gemello di Ash Williams. Aiutiamo Ash a sconfiggere il suo sosia, così usciamo da questo manicomio una volta per tutte. Vi faccio ricordare che la prima parte del quarto livello l'abbiamo completata, ora si completa la seconda parte del quarto livello. Mi sa che abbiamo belle già finito, abbiamo vinto, vi saluto, livello completato.